buongiorno sono massimiliano della tecnocasa benvenuti in via manzù oggi ci troviamo in una delle zone più verdi e richieste del paese vi presenterò questa bellissima villetta schiera disposta su più livelli ideale per una famiglia numerosa andiamo a scoprirla vieni con me eccoci qui all'interno del nostro immobile dove troviamo cucina bagno soggiorno con un cammino terrazzo che dà sfogo sul nostro giardino al piano superiore troviamo la zona notte composta da tre camere di cui una con servizio un bagno ed una terrazza eccoci qui all'ultimo piano dove troviamo un'ampia mansarda con servizio ed un solarium vi ricordo inoltre che l'immobile è accessoriato di una ampia taverna un garage triplo una cantina e una lavanderia se sei interessato all'immobile e vuoi fissare la tua visita privata contattaci ai numeri che trovi qui sotto oppure vieni a trovarci in agenzia e se devi vendere casa per acquistare un immobile come questo non esitare a chiamare i professionisti di sempre a presto